Cosa dire su alcuni youtubers, partendo da Francesco Sole, è un mito, è una persona molto piacevole, non è una cavolata, lui direbbe cavolata, no questa non è una cavolata, poi partendo dagli utopi, grande, fa delle recensioni che sono una meraviglia. Giuseppe Sabbio, ragazzi non ascoltatelo perché potrebbe essere pericolo per youtuber, bene, mio cugino, io incito la gente a guardarlo perché così si vanno avanti gli iscritti, il mio caro amico d'Ester. Non so, beh intanto non so da dove deriva il suo nome, se da Cartoon Network o da che cosa, ma è un mito, ho visto dei suoi video che fanno esplodere il mondo, la rete. I Pampers, quelle di, le secolo fine del tempio della tv fanno più ridere che piangere. I Pampers, come i Pampers, Frank Mattano, mitico, soprattutto per le sue scoleggie. Favij, mitico, mitico, ho fatto anche un film, ragazzi, ho sentito che è un film balorditivo. Ciao.